Prima di iniziare il video ti ricordo di Premere il tasto Iscriviti e lasciare un mi piace Grazie A Temptation Island le emozioni sono alle stelle Alessia, fidanzata di Lino, sta vivendo un incubo, vedendo video del fidanzato sempre più vicino a due ragazze single Lino sembra attratto soprattutto da Maika, con cui già immagina un futuro post-programma Durante una delle visioni, Alessia esplode in lacrime, gridando, me lo dovete chiamare ora Nonostante i tentativi delle altre fidanzate, come Martina, di calmarla e dissuaderla dal richiedere un nuovo falò Alessia non riesce a contenere la frustrazione Lui merita una persona che gli faccia le corna perché se le merita, esclama Alessia, esasperata dalla continua visione di video del fidanzato con altre ragazze Come se non bastasse, un altro filmato mostra Lino e Maika litigare animatamente Maika accusa Lino di essere geloso ma interessato anche a un'altra ragazza, Gaietta Il ragazzo è indeciso, dicendo di desiderare il corpo di una e la testa dell'altra Facendo infuriare ancora di più Alessia e ottenendo anche il sostegno delle altre fidanzate Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti Grazie mille per essere stati con noi oggi Speriamo che il video vi sia piaciuto Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video